Oroscopo del giorno, venerdì 27 settembre 2024 Ariete Amore Oggi potresti sentirti più sensibile, cerca di non prendere tutto sul personale. Lavoro È una giornata perfetta per riflettere su nuove strategie professionali. Toro Amore La tua relazione è solida, ma fai attenzione a non trascurare i piccoli dettagli. Lavoro Un collega potrebbe offrirti un'opportunità interessante, ascolta con attenzione. Gemelli Amore La tua voglia di avventura potrebbe sorprendere il partner in modo positivo. Lavoro È il momento di concentrarti su un progetto che richiede creatività. Cancro Amore La luna ti rende emotivo, ma il tuo partner saprà darti il supporto di cui hai bisogno. Lavoro Lavoro Affronta con decisione una situazione complicata, troverai la soluzione giusta. Leone Amore Oggi sarai al centro dell'attenzione, con il tuo fascino che conquista tutti. Lavoro È un buon momento per prendere l'iniziativa su un nuovo progetto. Vergine Amore Piccoli malintesi potrebbero crearti ansia, ma chiarisci subito per evitare problemi. Lavoro Organizza al meglio le tue attività, la precisione oggi sarà fondamentale. Bilancia Amore Amore Una giornata serena, perfetta per passare del tempo di qualità con chi ami. Lavoro La tua diplomazia ti aiuterà a risolvere un conflitto in ufficio. Scorpione Amore Sei magnetico e passionale, oggi potresti attirare qualcuno di speciale. Lavoro Fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle tue decisioni professionali. Sagittario Amore L'avventura ti chiama, ed è il momento di seguire il cuore. Lavoro Nuove idee innovative ti porteranno ad espandere i tuoi orizzonti. Capricorno Amore Oggi potresti sentirti più chiuso emotivamente, cerca di non isolarti troppo. Lavoro La determinazione ti porterà a raggiungere un traguardo importante. Acquario Amore Un gesto affettuoso del partner ti farà sentire particolarmente amato. Lavoro Sfrutta le tue capacità di networking per costruire nuove collaborazioni. Pesci Amore La tua intuizione ti guida verso una giornata romantica e appagante. Lavoro Ottime notizie in arrivo per quanto riguarda un progetto su cui hai lavorato duramente. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Lavoro Grazie a tutti.